Bene, grazie per essere venuti qui nella casa del signore, in piedi, siamo qui di fronte a questi figlioli per unirli in matrimonio, cosa possiamo dire di loro? Guardatevi che bella coppia, che bella la sposa, e che bello anche lo sposo, passabile, passabile. Monaldi e Mario, vuoi prendere in tua legittima sposa, Bongini Mirella qui presente, secondo il rito della Santa Madre Chiesa? Sì. Bongini Mirella, vuoi prendere in tua legittimo sposo, Monaldi Mario qui presente, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Grazie, vita, mano. Non ho sentito bene! Lei provo? Bongini Mirella, vuoi prendere in tuo legittimo sposo, Monaldi Mario qui presente, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Non ho sentito bene! Comunque vada domani, abbiamo vissuto oggi. Io vi dichiaro uniti in matrimonio nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. No, no, ecco hai visto cosa hai fatto? E poi come andò? Ah sì, il principe la sposò, e a quelle nozze benedette, di testimoni ve ne furono sette, auguri! Auguri e figli maschi! E' un buon ammodetto! Gli sposi felici si avviarono incontro alla vita. Che bontà di la storia, la vita! Andiamo da Mirella, Mirella invece sono 54 anni di matrimonio. e non ha trovato l'uomo, vai! E adesso è anche ritenuta a strinto, ma ecco, visto che, oh vi volevo dire, vi volevo ricordare, come sempre, non è appunto solo il compleanno da festeggiare, in questo caso l'anniversario, oppure semplicemente, non so, un modo per dire ti voglio bene una persona cara. Pronto? Buongiorno Mirella, auguri, buoni 54 anni di matrimonio, auguri grandi, questa è Radio Toscana, che le porta gli auguri di Simona, Toni, Taglia, Chiara, Matteo, Riccardo, Barbara, ma soprattutto Miriam e Gabriele, auguri! Bellino, grazie! Eh, vero? Bellino, ma Mirella, come si fa a regge 54 anni o lo stesso uomo? Lasci di là! Non lo so, non lo so! Ecco! La hocia parecchio dura! Eccoci, ecco, l'agneredia a Totti e le Ilari, ma, voglio dire, loro se ne sono accorti la cosa alle dura. Senta, festeggiate, come si chiama il suo marito, signora? Si chiama Mario. Mario, gli mando un bacione anche da parte nostra e fate una bella festa, va bene? Fate una bella festa, come meritate? Cosa si dice al Simone e a Toni? Cosa diciamo al Simone e a Toni? Le ringraziate tanto, ci hanno fatto tanto piacere. Arrivederci, bacioni grandi. Ciao, ciao! Pronto? Buongiorno Mirella, auguri, buoni 54 anni di matrimonio, auguri grandi, questa è Radio Toscana. Bellino, grazie! Buon anniversario Buon anniversario Vai Mario! Un saluto va anche a Rosa che ci ascolta da Martina Franca, buongiorno, auguri a Mario, Mirella, 54 anni di matrimonio da parte di Toni e Simona da Siena, auguroni anche da parte Da parte nostra e poi ancora vorrei fare... Mirella, Mirella, Mirella... Vai Mario! Mirella, Mirella, Mirella... Vai Mario! Ho intenzione di scrivere, ho intenzione di scrivere, ho intenzione di scrivere, ho intenzione di scrivere, Don Paolo c'è venuto qua, l'ho disturbato semplicemente per ringraziarla... A nome mio e di mia moglie per la bellissima cerimonia che lei ha celebrato per il cinquantesimo di matrimonio, mio e di mia moglie, veramente grazie, grazie di buono! Non dovete ringraziare veramente, io devo ringraziare voi perché oggi come oggi, arrivare a cinquant'anni di matrimonio non è facile! Sì, ma se continua così in giardino a cinquant'uno, capivo? Non è facile, non è facile! A proposito, dopo avete festeggiato, no? Che avete fatto dopo? E che abbiamo fatto? Un minuto di silenzio, che potremmo fare, Don Paolo? Vediamo un minuto di silenzio! Che potremmo fare? Mirela, Mirela, Mirela E di mio padre Mario, che per come era sempre severo, mi appariva sincero nel dolore del restare impotente insieme a molta altra gente Che potremmo fare? Buon anniversario del matrimonio! Viva! Viva! Lore del Viva! 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 Loro del Viva! Fermo lì, fermo lì, non chiuderò ancora il video Fermo lì, fermo lì, non chiuderò ancora il video Vai Mario Perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose La felicità, sì, la felicità Champagne, per brindare un incontro Con te, che già eri di un altro Ricordi, c'era stato un invito Stasera si va a tutti, ma casa mia Fermo lì, fermo lì, non chiuderò ancora il video E poi arriverà Simona E poi arriverà Simona Simona ammodati, Simona ammodati È davvero finito? Questo video finisce Questo video finisce Che è la fine Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.